Hub come snodo, come link, come crocevia, come punto d'incontro. Il nome Hub deriva proprio da una idea di interconnettere, di creare un polo di aggregazione e anche di interscambio. Hub sono 15.000 metri quadrati di stabilimento, uno stabilimento che ha conosciuto le lavorazioni meccaniche, la produzione intensiva dei cambi delle vetture. Oggi si propone come spazio di interazione per ospitare 258 vetture, di cui 64 contenute in otto isole diverse, che raccontano temi, attitudini, storie della nostra creatività torinese. 120 anni di storia, di cultura, di conoscenza, dove le vetture prendono sopravvento su uno spazio recuperato in tutte le sue caratteristiche, dalla colorimetria delle colonne, addirittura la memoria storica lasciata sul calpestabile. Un modo per riconsegnare all'area di Mirafiori, alla città di Torino, uno spazio di racconto e di interazione con i visitatori e con la cultura automobilistica che cresce nel gruppo FCA. L'Heritage Hub è la casa di FCA Heritage ed ospita al suo interno non soltanto una buona parte della collezione aziendale, ma anche i prodotti, i servizi e le attività del nostro dipartimento. L'area centrale ospita le mostre temporanee, che accolgono le nostre vetture più importanti. Si tratta di otto mostre, ciascuna delle quali è incentrata su una tematica trasversale ed accoglie otto vetture. Sono vetture che appartengono ai tre marchi torinesi, quindi a Lancia, Fiat e ad Abarth. Tra queste abbiamo le vetture che hanno triunfato nei rally, quelle che hanno introdotto innovazioni tecnologiche nel campo dell'ecologia e della sostenibilità ambientale o ancora quelle che sono diventate dei veri e propri landmark nella storia dell'automobile per aver introdotto delle innovazioni di tipo estetico oppure tecnico. Al di là della zona centrale, sulle due ali dell'edificio ci sono circa 200 vetture che fanno da contorno alle esposizioni centrali. I due stand di Reloaded by Creators ospitano delle vetture storiche che sono state recuperate sul mercato da FCA Heritage e che vengono successivamente restaurate, certificate dai nostri esperti tecnici e poi nuovamente proposte in vendita. Lo stabilimento torinese quest'anno compie 80 anni. Proprio alla storia di Mirafiori, alla sua evoluzione nel corso del Novecento, abbiamo dedicato una mostra particolare. Si tratta infatti di un labirinto sospeso di pannelli dove immagini evocative e testi in italiano e in inglese raccontano l'evoluzione di Mirafiori attraverso i decenni fino ai giorni nostri. Heritage Hub si inserisce come ulteriore modulo in una rete di attività che riguardano il Dipartimento FCA Heritage, dalle manifestazioni dinamiche, la presenza sul territorio dei musei storici, quello Alfa Romeo Arese e quello Fiat, in Corso Dante. Con Heritage Hub prende forma e si completa un vero e proprio distretto, quello del comprensorio di Mirafiori nel lato sud, un distretto della conoscenza e del sapere.